buongiorno a tutti siamo all'opera saluti dalla villa di spedaletto siamo proprio nell'interno della villa la villa eccola lì attualmente siamo attivi in 80 metri 3.690 qualche buon'anima seppure metterci lo sport ricordiamo che siamo in diretta via log tempo reale pubblicato sulla pagina di q5 giuliettalf hrd log nel collegamento tempo rapido siamo attivi può verificare se alloghi ciao e presto ascoltarci in radio